Inauguriamo oggi le sale dedicate a Andrea del Sarto e la sua cerchia. Sono delle sale molto importanti per il percorso del secondo piano degli uffizi perché restituiscono il contesto successivo alla lezione dei grandi maestri Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Si tratta di tre sale potentissime nella quantità e nella qualità delle opere che vi sono esposte e che assieme alle sale verdi permettono al visitatore di avere immediata contezza delle dinamiche della produzione artistica e culturale a cavallo tra il 400 e la prima metà del 500.